I baby modelli di giugno I baby modelli di giugno In collaborazione con Sergin Major, Yogurt & Co, Parco Giochi Garden I protagonisti questo mese sono Evelyn, Giulia e i gemellini Riccardo e Davide E giugno è tempo di vacanze e i nostri baby protagonisti del mese sono scatenatissimi Ritrovo da Yogurt & Co su lungomare adriatico di sottomarina, angolo viale tirreno Per un buon gelato e poi tanto divertimento al Parco Giochi Garden Cosa c'è di meglio di un gustoso e fresco gelato da Yogurt & Co? Una vera oasi di bontà Il gelato è un alimento adatto a tutti, dai bambini ai nonni, con notevoli proprietà benetiche I gelati possono essere consumati tranquillamente come merenda, in alternativa alla frutta o come sostitutivo di un piatto Oltre al gelato, Yogurt & Co offre anche granatine in tantissimi gusti e gustosissimi frappè Grande novità, le centrifughe di frutta e verdura Per le amiche attenti alla linea, potete dissetarvi e bere qualcosa di nutriente Associando la frutta e la verdura a vostro piacere Yogurt & Co accontenta anche i più golosi, con le creppe alla Nutella Una vera goduria per il palato Gustatevi tutte queste delizie seduti belli comodi da Yogurt & Co Dove tutto è di produzione propria La struttura ospita al suo interno anche un negozio di souvenir Con prodotti tipici della nostra città Su pellettili realizzati con conchiglie Oggetti in vetro soffiato E gustose idee da portare in tavola Provate ad assaggiare i sughi a base di alici o vongole Sono speciali Dopo il gelato, si gioca con le giostrine del Parco Jockey Garden Situato proprio dietro Yogurt & Co Parco Jockey Garden è un'osi dedicata allo svago dei più piccoli E al relax delle famiglie Che possono concedersi qualche minuto di pace In un'area immersa nel cuore del lungomare Adriatico Con un'ampia zona verde Al suo interno tanti giochi per bambini Un bellissimo trenino Giostre Una grande pista di go-kart Autoscontri Tappeti elastici E tanto altro Per il divertimento dei piccoli di casa Il parco è aperto la sera Ed è il luogo ideale dove trascorrere piacevoli ore di gioco e divertimento Ma anche dove poter organizzare un party o una festa di compleanno Yogurt & Co Insieme al Parco Garden È un ambiente controllato, divertente e sicuro E ti permette di gestire in tutta tranquillità L'evento che vuoi organizzare Il parco Garden ogni giovedì ti aspetta con una speciale serata di animazione Bagli e trucca bimbi Per far divertire tutti i bambini Yogurt & Co E Parco Giochi Garden Lungomare Adriatico Angolo Viale Tirreno a Sottomarina E' il momento del servizio fotografico E i nostri belli modelli indossano la splendida moda di Sergent Major Sergent Major è pronto con tante novità in fatto di colori e tessuti Sono arrivati i quadretti con i colori del mare come l'azzurro e il verde E le tonalità del sole e della spiaggia come il giallo tenue e l'arancio Per le bimbe bellissimi prendisole in fantasia con fiorellini Quadri o pua e tinta unita con ricami a filo Un must per le bimbe saranno i pantaloncini in tela leggerissima Semplici con taschini laterali o a palloncino più bon ton Per i bimbi bermuda colorati in tela leggera tinta unita o fantasia Le t-shirt sono spiritose e con applicazioni colorate Passate i negozi a vedere la collezione con i fenicotteri rosa Anche su tutine e pantaloni corti E c'è anche la moda mare, costumi interi o due pezzi E per i maschietti bermuda, slip e short Occhio alla promozione del mese Sergent Major offre i completi in puro cotone per il mare Il gioco e il tempo libero a prezzo speciale Canotto o t-shirt più pantaloncini per bimbo o bimba a 14,99 euro Per le bimbe anche abitini o tutine a pantaloni corti in cotone Sempre a 14,99 euro Se ne acquisti due avrai 5 euro di sconto subito alla cassa Inoltre in questo periodo, occhio al prezzo Sergent Major ha selezionato alcuni capi delle collezioni primaverili Scontandoli del 20% Passa i negozi a scoprire quali sono Sergent Major via San Marco a Sottomarina I baby modelli del mese In collaborazione con Sergent Major Yogurt & Co. Parco Jockey Garden Chioggia TV